Roana Serramenti è frutto di un'esperienza ventennale nella produzione di serramenti. Gli articoli che esponiamo sono il risultato di una scelta molto selettiva fatta durante anni di esperienza. Offriamo assistenza pre e post vendita, cortesia, serietà, convenienza ed altissima qualità. Visitate il nostro fornitissimo showroom di Ferentino in via Casilina, chilometro 79, località Roana. Roana Serramenti, apriamo una luce nella vostra casa.